Tragedia questa mattina in via Lamioni a Pagani. Il cadavere di un uomo carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto distrutta dalle fiamme. Sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno avviato prontamente le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa, compresa quella del suicidio.